Non è passata inosservata ai fanesi più attenti l'area del cantiere realizzata nella zona dello sport park, più precisamente dietro la stazione ferroviaria. Questo allestimento, ovvero una rimessa per attrezzature e mezzi di aset al lavoro lungo via Dante Alighieri per la realizzazione di sottoservizi alla rete idrica del quartiere, toglie alcuni parcheggi in una zona strategica di Fano. Ma è possibile che con la penuria di parcheggi in zona mare e stazione si deve vedere uno scempio simile? Ma come viene gestita questa città? È la segnalazione arrivata al nostro numero di redazione e sui social da parte di un cittadino fanese che, oltre a denunciare l'occupazione di parcheggi, rende questo tratto transitato e frequentato da turisti e cittadini ancora più desolante, sporco e arruffato. A rispondere oggi alla segnalazione è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano. Il cantiere fa parte dei lavori che sta facendo aset su zona mare e zona sassonia. Abbiamo chiesto proprio in questi giorni di liberare l'area cantiere nel parcheggio dietro alla stazione perché siamo entrati in una stagione estiva e quell'area deve essere assolutamente libera. Loro stanno finendo, stanno concludendo in questi giorni i lavori sulle vie principali, mi hanno assicurato che adesso ridurranno drasticamente quell'area cantiere, ma chiederò di, entro il 15 giugno massimo, di liberare assolutamente quell'area per spostarsi in una zona dove crea meno disagio per il parcheggio estivo. Invece, assessore, quei parcheggi rimarranno comunque gratuiti? Quella zona quest'estate saranno parcheggi liberi, gratuiti, è un polmone che insomma servirà tutta la zona della Sassonia. Grazie a tutti.